Fissata per sabato prossimo, 18 ottobre, la mobilitazione nazionale della CISL dal titolo Jobs Day, 100 piazze per il lavoro. Una iniziativa che il sindacato ha deciso di promuovere per prendere posizione sulle ultime decisioni del governo in materia di lavoro. Anche CISL Arezzo prenderà parte alla mobilitazione e sarà il mercato di Viaggiotto la cornice a fare da sfondo per il ritrovo del sindacato e dei lavoratori aretini. Cosa chiede la CISL all'esecutivo nazionale? Noi vogliamo che il governo avvii un confronto serio con le organizzazioni sindacali. Siamo di fronte a una delega sul lavoro, ampia, dove si parla di cassa integrazioni, si parla di contratti a tutele crescenti, si parla di volontà di eliminare alcune forme di precariato. Su questi temi vogliamo un confronto puntuale e preciso perché ogni tema ha bisogno di un suo approfondimento. In particolare per quanto riguarda l'articolo 18 qual è la vostra posizione? Noi siamo perché rimanga la tutela sui licenziamenti discriminatori, che il fatto che in caso di licenziamento di natura economica non ci sia solo per un certo periodo l'obbligo del risarcimento economico, ma si è esteso in modo illimitato. Gli altri punti di ritrovo che aderiscono a 100 piazze per il lavoro nella provincia saranno le piazze principali di Sansepolcro e San Giovanni Valdarno.